Quasi due tonnellate di coralli vividuri ed oltre 25.000 esemplari di pesci tropicali della specie, per un valore totale di circa 250.000 euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma e dal Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato. L'indagine è partita dal controllo di alcune spedizioni in arrivo dall'Indonesia e da Singapore, apparentemente irregolari. I pesci e i coralli, però grazie alla compiacenza di un grossista di Monte Rotondo, non sarebbero mai arrivati all'azienda di San Marino destinataria della spedizione, ma dirottati su tutto il territorio nazionale. Per questi motivi, i sei presunti responsabili, compreso il titolare della società di Monte Rotondo, sono stati denunciati per maltrattamento di animali, violazioni alle leggi e regolamenti inerenti all'importazione e commercializzazione di specie di animali protette e contrabbando aggravato.